Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.265 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zoo Profilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale di L'Aquila. Dunque rispetto all'altro ieri non si è registrato nessun aumento di nuovi casi con un totale di 783 tamponi analizzati. 89 pazienti, uno in più rispetto a due giorni fa, erano ieri ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 4, numero invariato rispetto all'altro ieri, erano invece in terapia intensiva, mentre gli altri 539, 13 in meno, risultavano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 418 pazienti purtroppo deceduti. Anche qui però non c'è stato nessun decesso registrato nella giornata di ieri. 2.215 sono i pazienti dimessi o guariti, 21 in più rispetto a due giorni fa, di cui 120 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. E 2.095 che hanno risolto i sintomi dell'infezione, risultando negativi in due test di seguito. La Giunta regionale ha segnato nuove risorse economiche per garantire il contributo previsto dalla legge regionale numero 9 del 2020 con lo scorrimento della gradatoria per i nuclei familiari con almeno due figli in condizioni di particolare disagio a seguito dell'emergenza coronavirus. La spesa complessiva ulteriore è pari a 2.500.000 euro per un contributo di 800 euro per ogni nucleo familiare. Il pagamento avverrà già dai prossimi giorni con una variazione di bilancio pari a 7 milioni di euro. Invece l'esecutivo regionale ha deciso di assicurare un sostegno economico a tutti gli ulteriori eventi di ritto che ne hanno fatto richiesta. L'obiettivo prioritario dell'amministrazione regionale è sostenere le fasce più deboli in questa situazione di grave crisi socio-economica che si è determinata per effetto del Covid-19 e assicurare un sostegno a famiglie e persone in difficoltà da liquidarsi già dalla prossima settimana. Ha approvato anche il piano d'azione dell'innovazione del sistema regionale di trasporto pubblico. Ed è stato approvato lo strumento di attuazione diretta per i servizi di cura agli anziani. Si tratta di teleassistenza e telesalute a supporto del servizio ed assistenza domiciliare integrato per l'uso di risorse pari a 4.047.693 euro. Il servizio comprende tra l'altro la fornitura di hub bidirezionali, cioè attrezzature di sorveglianza, un portale per il monitoraggio a distanza delle pazienti e un centro d'ascolto attivo 12 ore al giorno per 7 giorni settimanali per rispondere velocemente alle richieste di emergenza. Si stima di fornire un servizio fino a un massimo di 4.000 pazienti su tutto il territorio regionale per un periodo indicativo di due anni a integrazione del servizio di assistenza domiciliare degli operatori sociosanitari. Altri 4 milioni di euro sono destinati a un intervento strutturato su base territoriale e sarà garantito con estensioni del vigente contratto regionale di assistenza domiciliare integrata, di cure domiciliare integrate, grazie all'attivazione di altri pacchetti contrattuali sociosanitari che comprenderanno l'utilizzo di strumentazione di teleassistenza, il pacchetto infermieristico, quello riabilitativo, quello psicologico ed altro ancora. La Giunta ha modificato alcune disposizioni operative sull'uso dei fondi comunitari in favore delle imprese abruzzesi duramente provati in questo periodo di crisi. Si tratta di ulteriori modifiche alle modalità di assegnazione e di utilizzo dei fondi della legge regionale numero 10 del 2017 che prevede l'assegnazione con fidi dei fondi per il finanziamento comunitario PORFESR 2007-2013 con vincolo di incremento del fondo rischi per la concessione di garanzie. La Giunta ha poi tenuto conto delle difficoltà del momento dell'imprenditoriale a causa della crisi da Covid-19 dato in carico alla Fira S.p.A. quale soggetto gestore di apportare alle convenzioni stipulate con i confidi modifiche e integrazioni che servono ad adeguarle alle disposizioni della legge regionale numero 23 del 2020, il cosiddetto decreto liquidità, anche per consentire di rinviare nel tempo i termini dettati dai confidi tenuto conto della moratoria dei prestiti. Modificate altre disposizioni operative per l'uso dei fondi comunitari per venire incontro al mondo delle imprese abruzzesi nel periodo di crisi. Inoltre c'è stato questo relativamente al bando credito e crescita. Ha approvato anche il disciplinare la modulistica per il bed and breakfast imprenditoriali, come previsto da un'altra legge regionale. Si tratta di attività svolte in maniera continuativa e professionale all'interno di un'abitazione per fornire alloggio e prima colazione a non più di 6 camere e 14 posti letto, anche avvalendosi di personale qualificato per la quale è necessaria l'iscrizione del registro delle imprese e della Camera di Commercio. C'è stata poi la proroga per altri sei mesi della convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Industria Alberghiera e il Cinsedo Centro Interregionale Studi e Documentazioni. Si tratta di attività di supporto per la promozione del sistema turistico, la formazione, lo studio e la ricerca. Sono state definite le modalità per la fornitura dei contributi straordinari ai comuni sugli interventi in materia di competenza del Dipartimento Territorio Ambiente e del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti. La legge regionale apposita ha infatti stabilito che ci siano contributi straordinari ai comuni per spese in conto capitale per un importo complessivo di 3.210.000 euro in favore dei comuni stessi. Nella delibera approvata sono riportati i comuni beneficiari del contributo di 1.565.000 euro assegnato al Dipartimento Territorio Ambiente. Gli enti beneficiari del contributo da 1.040.000 euro e di quello da 100.000 euro assegnati invece al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti. Zafferano è protagonista di due video-lezioni online che hanno coinvolto i detenuti studenti del supercarcere di Sulmona da un lato e il presidente del Consorzio Tutela dello Zafferano, Massimiliano Di Crescenzo, dall'altro. L'iniziativa si inserisce nel percorso Impresa Cooperativa Simulata che vede protagonisti l'Istituto Tecnico e Professionale Agrario Serpieri di Avezzano, Prato La Peligna e Castella di Sangro e Fedagri Pesca di Conf Cooperative Abruzzo. L'estate 2020 porta nuovi giochi per i bambini, altalene, scivoli, minicastelli in 12 parchi comunali di Pescara. Lo ha annunciato nel corso della Commissione Ambiente l'assessore delegato Gianni Santilli. L'intervento è stato reso possibile grazie ad un finanziamento di 350.000 euro che permetterà anche di effettuare opere di sistemazione generale nelle aree verdi interessate e sarà solo, ha detto Santilli, la prima operazione che ovviamente andrà estesa nei prossimi mesi anche agli altri spazi. E' iniziata a pescare la piantumazione delle essenze nei grandi vasconi colorati di Piazza Caduti del Mare. Sono dunque le battute finali, i lavori di realizzazione dell'ultima opera che Franco Summa ha voluto lasciare alla città. Se non ci saranno intoppi, spiega l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albolemascia, potremo inaugurare la piazza con tutte le precauzioni necessarie entro la fine di giugno. E ricordiamo i numeri dei centri operativi comunali di Pescara, lo 085-4283-400, ripetiamo, 085-4283-400, e Montesilvano 800-9422-222, ripetiamo, 800-9422-222. Siamo al meteo, oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, poco nuvoloso in tarda mattinata nelle ore centrali, molto nuvoloso nel primo pomeriggio, sereno nel resto della giornata con temperature da 17 a 24 gradi, eventi da deboli a moderati. e nelle zone interne, cielo coperto fino a metà mattino, pioggia in tarda mattinata nelle ore centrali, temporale nel primo pomeriggio, pioggia nel resto del pomeriggio, cielo nuvoloso nelle prime ore della sera, e sereno in tarda serata con temperature da 17 a 22 gradi, eventi da deboli a moderati. Il mare è previsto, poco mosso. È tutto, grazie per averci seguito e risentirci. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS